buongiorno ciao a tutti oggi vorrei presentarvi il metodo si si entusa per imparare inglese perché funziona funziona anche se non ti piace l'inglese hai poca motivazione o non ne hai per niente non riesci a studiare inglese se hai ripreso 50 volte lo studio e non si è arrivato da nessuna parte e se trovi noioso studiare inglese il metodo si si entusa funziona perché è basato sui cinque principi cardinali dell'apprendimento umano primo gioco il gioco è l'unico motivatore che trascina lo studente a finire il percorso di studio secondo storie imparare una lingua usando le storie il modo più efficace per apprendere una lingua straniera ma attenzione perché c'è differenza tra una storia e l'altra le storie devono essere interessanti insolite anche se sono basate sulle situazioni reali tre esperienza di vita reale le situazioni presentate sono di natura simile a ciò che si può normalmente o probabilmente sperimentare quotidianamente consentendo parallelismi tra ciò che accade nella narrazione e ciò che sarebbe accaduto in un contesto reale si noti che le circostanze sono esagerate a favore di una migliore memorizzazione quattro giochi di ruolo il lettore assumere un'altra personalità e carattere che lo aiuterà a superare la paura di commettere errori e di sentirsi ridicolo sarà proiettato in un'avventura in cui avrà la possibilità di sperimentare in modo interattivo la conoscenza della lingua e acquisire nuove competenze identificandosi con il protagonista cinque mnemonica imparare facile ma ricordare è difficile se non sai come farlo è evidente che ricordiamo cose insolite interessanti affascinanti persino provocatorie dimentichiamo facilmente ciò che è solito se vuoi imparare deve essere indimenticabile e esattamente questo fa il metodo si si entusa mi presento adventures in all'interno è un libro che soddisfa queste tue esigenze impari l'inglese divertendoti anche se non sei motivato metti in pratica la tua conoscenza subito e lo farai senza sforzo non è un libro qualsiasi ti fa diventare dipendente dall'inglese il primo libro al mondo per quel che io sappia che applica un metodo vincente per imparare una lingua anche nel caso in cui manchi una vera motivazione impari attraverso una storia in cui sei tu il protagonista l'unica cosa che devi fare è metterti in gioco in breve si tratta di un testo di lingua interattivo ispirato allo stile dei libri game questa impostazione costituisce un nuovo modo di insegnare una lingua basando la metodologia sul gioco il lettore dovrà fare delle scelte di tipo linguistico e grammaticale che lo porteranno verso nuovi sviluppi e finali della storia uno dei concetti principali che permettono l'apprendimento e la focalizzazione di nozioni durante l'apprendimento di una lingua è il fattore ludico e i libri game si prestano perfettamente a questo scopo per chi ha disegnato il libro per tutti quelli che ammettono di amare il gioco quelli che si fanno trascinare quelli che hanno motivazione e quelli che non riescono più a trovarla perché il gioco è universale questo libro si rivolge soprattutto a quelli che sono disperati perché non vogliono studiare inglese ma devono imparare giocando non implica che non imparerai seriamente nel libro troverai anche spiegazioni grammaticali con una struttura didattica pensata per farti giocare con la lingua ti lascio il link di qualche pagina del libro così potrai avere un'idea concreta preparati per un'avventura eccezionale che potrebbe cambiare il modo in cui percepisci l'apprendimento delle lingue